La versione live acustica di Antisocial, a breve verrà caricata su YouTube la versione studio, alla chitarra Raffaele Matarazzo, al microfono Michele De Nittis, dietro la telecamera Giuseppe Battista e alla voce Vicky. Vai Raffaele! Sveglio d'acqua gli occhi e vedo il sole all'orizzonte, illumina il cemento e Dio che immagino le onde, il vento soffre piano ed accarezza la mia fronte, non penso proprio a nulla, scomperò la mente, senti questo suono che se viaggia dentro l'aria, tutti vinti vivono una vita ordinaria, il limo su e scuppo girano inutilitaria, più di mille amici in una vita solitaria, e penso che oggigiorno non abbiamo più il contatto, non quello di pozzato ma dico quello con il tato, nascosti dietro schermi ci scordiamo dell'infatto, rapporto con la gente come il nostro schermo piatto, sempre bussi lunghi solo in camp sorrisi finti, social che danneggiano e per questo siamo i filtri, condividiamo stati con tizi che chi l'ha mai visto e non condividiamo stati perché siamo razzisti, l'uomo non è un'isola però sognare a guarda, perché restando solo pensa che non avrà cuore, toglietegli il suo brain ma non l'accanto online, il cuore che si scioglie siamo noi nuovi ghiacciati. E ricordo questo sole va a un po' a culo al cellulare, e sto cielo che sorride dai tu fu del normale, tu ti appare sempre dopo adersi ritaggare, i tuoi piedi nella sangra e sulle labbra sento il sale. E ricordo questo sole va a un po' a culo al cellulare, e sto cielo che sorride dai tu fu del normale, tu ti appare sempre dopo adersi ritaggare, i tuoi piedi nella sangra e sulle labbra sento il sale. Da piccolino già bevo il rullino e si è veniva in mare, attaccati, adesso invece se ti fai rivedere, parla di nuovo pubblico e taccami, condividi e linkami, tweetami, metti un po' di più ma dopo filtrami. Camminiamo a testa bassa e non alziamo negli sguardi, per sapere se c'è il sole portiamo il meteo online, parliamo nelle chat ma dal vivo siamo codati, continuiamo diritti senza un ciao, come stai? Siamo in cerca di qualcosa che non sa neanche il motore, ma forse quel qualcosa è solamente un'emozione, c'è chi sommia di mangiare e che un cibo vuole foto, un dialogo come lo stomaco dei primi cuori. E ricordo questo sole va a un po' a culo al cellulare, e sto cielo che sorride dai tu fu del normale, tu ti appare sempre dopo adersi ritaggare, i tuoi piedi nella sangra e sulle labbra sento il sale. E ricordo questo sole va a un po' a culo al cellulare, e sto cielo che sorride dai tu fu del normale, tu ti appare sempre dopo adersi ritaggare, i tuoi piedi nella sangra e sulle labbra sento il sale. Siamo passati dall'avere le guance rosse quando parlavamo con una ragazza che ci piace, ad avere le spunte blu, e da fare la fila per mettere 200 lire in una cabina telefonica, a farla per mettere lo stipendio in una mela, tra l'altro smangiocchiata pure. Grande Raf, grande Michele, grande Peppe. Ciao ragazzi sono Fabi J! Eh, me lo dà presa. È proprio, sì. Dà presa? Sì. Vabbè, allora, ok, come avevo cominciato prima? Versione... C'è il video, fai il video. Cioè stai serio? Ti fa bene, ora stai giù. Allora, versione... 2, 1, vai. No, lo devo far prima... Devo partire, mi tolto a prendere. Allora, questo video lo trovate con il Vodafone 4G, potete vederlo sui vostri celluli o no. Sì, riportiamo da te. Allora, versione acustica live di Antisocial, a breve caricata su YouTube, anche la versione studio. Per ora la versione... Non diciamo il titolo, non lo diciamo con il titolo. Versione live acustica di Antisocial, a breve verrà caricata la versione studio. Qui con me Raffaele Matarazzo alla chitarra, che ci allieterà con le sue dolci note. Vai Raffaele, comincio.